Oggi non può cambiare il suo aspetto. Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo. Raccontami di questa nuova scuola. Cerco di ambientarmi. Si, proprio da quando ho lasciato la mia vecchia scuola. Julian, tu non hai lasciato la tua vecchia scuola. Sei stato espulso. Sono sicura che tuo padre ti ha raccontato di quando ero ragazzina. Non sapevo nemmeno il suo nome. Guardate quello storpio. Ma avevamo in comune una cosa fondamentale. Sono molto belli per un ebreo. Avevamo visto entrambi di quanto odio sono capaci le persone. Devi venire con me adesso. So come salvarci. Nei momenti più bui, le piccole cose ci ricordano la nostra umanità. Non c'è persona più coraggiosa di te. Ti piacerebbe vedere New York stasera? Certo. Apri gli occhi. Puoi dimenticare tante cose nella vita. Ma non dimenticare mai... ...la gentilezza. ... ... ... ... Grazie a tutti.